Allora, stasera faccio una serata, beh, assolutamente, conoscete, no? BDX conoscete? Come lo conoscete? Eh? Non lo conosco. È un comico superficiale. È stato detto. È un altro comico. Beh, per me BDX è un superficialotto. Ah, ci sarà un altro BDX nel mondo che lo conosco. Un superficialotto. Capisci perché in Italia andiamo male, perché la strada comedy non va bene? Poi c'è stato un comico che fa la strada comedy che ha tre giorni di vita e dice che BDX è un superficiale. Capisci perché non emerge niente? Eh? Capisci? Ma come è? Capisci? Come sconti? Esi quattro straccioni idioti. Non sta a me a come da un'ora. BDX è un superficiale. Terretino. Non lo devo dare un monologo. Non, ma no, non lo devo dare un mio pie al pubblico stupo ficiore! Nucca! Cucine!